Ciao a tutti, oggi è sabato 19 luglio e continua il Ludo Giro d'Italia. Infatti sono in procinto di prendere il treno per andare a Roma e poi verso Caserta perché vado a casa di questa nostra amica che ci aiuta, che ci mette a disposizione la casa per prepararci per il matrimonio, matrimonio che si terrà in provincia di Frosinone, vicino a Cassino. E quindi sì, adesso attraverserò l'Italia e non sapevo bene come vestirmi. Le freccea rossa mi spareranno l'aria condizionata mille, nel regionale morirà di caldo. Quindi ho fatto una specie di mix un po' così con questo vestito abbastanza leggero ma con le all star. E vabbè ci vediamo dopo. Altro oggi tornano i miei dopo un mezzo di Sardegna che non ci vediamo e non riesco neanche a incrociarli perché sono appena atterrati adesso, è mattina presto e loro stanno per tornare a casa e io invece sto partendo. Adesso siamo in una ridente località della Campania, mi sono venute a prendere Martina e Cristina. Stiamo cercando un autolavaggio che non c'è e adesso andiamo a casa di Martina, ci prepariamo tutte per il matrimonio e poi torniamo su verso Cassino al matrimonio stasera. Siamo arrivate ormai già da un po' a Baia e se c'era quello che passava che mi accordo, allora paesino di tre anime, l'unica persona che passa è quando io faccio il video, ovviamente. Siamo arrivati a Baia in latina e siamo nei grandi preparativi, guardate Guia, bellissima, a vedere, sfila un po', una gira a volta. Ok, timo. Eccoci arrivati a Ponte Corvo. Grazie 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 a Ponte Corvo. Quante?